Una giustizia che interviene per restituire dignità e liberare i deboli dal gioco dei potenti c'è ed esiste. Lo ha raccontato il magistrato Roberto Olivieri del Castillo durante la presentazione del suo ultimo scritto Indagine su un burattinaio, il manoscritto del giudice. Al tema della mala giustizia, cardine del primo romanzo frammenti di storie semplici che suscitò grande scalpore all'epoca della pubblicazione, l'autore inserisce altre questioni di strettissima attualità. Il fenomeno dei migranti, la piaga dello sfruttamento e magistrati accomunati da vizi privati. L'ispirazione viene sempre dalla realtà e la realtà dei nostri territori ha dato ampio argomento negli anni passati a situazioni paradossali di malagestio del potere giudiziario. Nel mio romanzo ci sono sicuramente dei riferimenti diversi circa l'ispirazione corretta del servizio. C'è sicuramente una parte della magistratura che indaga rispetto a una che invece pensa a degli affari leciti e più ancora illeciti. Ci sono le forze di polizia che fanno il loro dovere fino in fondo senza essere asserviti a poteri collaterali. C'è la religione anche qui con una dubbio essenza perché c'è un religioso che non si comporta come si deve e c'è invece un religioso che prende le difese dei deboli e fa quello per cui è entrato nel servizio religioso. La presentazione del libro del magistrato svoltasi a Barletta si è inserita nel progetto a cura del settore giovani di azione cattolica dell'Arcidiocesi di Trani dal titolo Semi di Legalità. Perché abbiamo voluto scegliere di presentare questo libro? Perché oltre ai temi della legalità e illegalità abbiamo voluto parlare anche di quei luoghi attraverso la presentazione di questo libro dove bisognerebbe amministrare la legalità ma che molto probabilmente anche loro sono vittima di legalità per altri consensi.